non c'ha più voglia neanche lei, gli è passata la fantasia come dice spampi come stavo bene spenta e non se ne può più adesso vado ciabattine di plastica degli anziani il casco va ben per sforza e il resto lo vedete poi dopo avanti Savoia ecco fatto vai prima zonetta se la faremo non si sa ragazzo scappato giro dell'albero Francesco qua il peso Lele sempre il peso così girato indietro senza mettere i piedi eh anche perchè con le pantofole vi fate male salta fuori montato altra gincanina come i bambini piccoli come i bambini un bel otto peso spalle sempre come il manubrio giro indietro lasciatemi uscire lasciatemi uscire passaggio dietro tutta la ciarmaglia tutta la rata maglia facciamo un passaggino dietro facciamo tutto il passaggio dietro tra la biancheria sperando che non esca nessun di casa se non le ammazzo e occhio alle trappole qua è sempre più difficile eccolo qua ho preso che essere giù nelle vallette ragazzi mi sto sgarberando tutte le mani aiaiaiaiai sono tre guanti discesa stretta ok salita stretta fuori altra gincana ho preso intrappolato gincanina stretta gincanina stretta gincanina stretta si riscende speriamo che non esca un nonnetto perché se non lo carico nel resto centrale qua possiamo mettere anche la terza interv 있는 via riproviamo a fare questa discesa potrei tentare a fare come Tony mi sa che non è il mio sport voglio uscire voglio uscire vabbè mi sa che me ne tornerò a cuccia per forza faccio l'ultimo passaggino e la riporto in Guardiola via cazza mia vediamo se c'è la Iena c'è anche la Iena purtroppo incredibile vabbè 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 che buon odore di trial ciao leoni ritorno alle mie masioni alla mia vi 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 Grazie a tutti.